Non so se avete visto, l'ho messo nella cartella che vi ho condiviso, che avete in condivisione con me, però l'ho caricata anche nel corso, se avete visto. Non so se avete dato un'occhiata al corso che ho fatto l'altra volta, dove abbiamo iniziato a fare quelle due attività, che sono le due attività, una era un glossario e l'altra era un form, vi ho analizzato i due oggetti di un corso. Allora, all'interno del corso io vi ho messo in una settione, quella che avevo preparato come registrazione audio-video, vi ho caricato già le registrazioni delle due prime lezioni. Mi scusi, sta presentando? Mi sembra di sì, lo vedete tutti? Allora, io devo riuscire ad entrare nuovamente, mi scusi, riesco e rientro. Sì, sì, provi. Allora, come vedete, io ho messo qui il video della prima lezione e il video della seconda lezione. Allora, come vedete, ho integrato all'interno di una sezione, di un argomento, un contenuto video. Questo mi aiuta a presentarvi la prima parte della lezione di oggi, che è quella appunto come utilizzare il video all'interno di un corso Moodle. Ci siamo tutti? Adesso aspettiamo se rientra la collega, se no vado avanti. Allora, quindi, la scorsa volta facciamo un breve riepilogo, abbiamo visto come funziona l'impostazione del corso. Per ora guardate quello che sto facendo io, poi se mai lo ripetiamo, vado ancora avanti, una quarto d'ora, venti minuti, vi spiego alcuni concetti e poi vi lascio lo spazio per l'esercitazione e mi chiamate a seconda di chi non ce la fa, posso intervenire. Però, se no, se fate quello che dico, mentre io lo spiego, si rischia che dopo si interrompa sempre la spiegazione, quindi non c'è una buona funzione della lezione. Quindi, abbiamo alcuni concetti che vi servono per introdurre le cose che dovrete mettere all'interno del corso, quindi in base a questo, dopo, se mai vi prendete appunti, successivamente le proverete nel vostro corso e andremo anzi a creare il corso che dovrete consegnarmi, inserendo dentro, iniziando a insegnare quello che dovrete progettare per quello che è stata l'UDA, che non avete ancora fatto, magari in testa avete già un'idea di cosa volete fare nel vostro corso. Scegliete un argomento che avete già sviluppato durante l'anno e provate a risviluppare questo sotto forma di un corso Moodle. Anche se non avete fatto la scheda, quella che vi ho presentato l'altra volta, magari ipotizzate già e cominciate a pensare a un corso da implementare all'interno della piattaforma. Allora, detto ciò, l'altra volta quindi vi feci vedere come si apportano modifiche a un corso. Una volta che siete entrati nel vostro corso, chiaramente sempre e solo nel vostro corso, avete tutti questo pulsante attiva modifica, che permette di passare, come dicevo l'altra volta, alla modalità, diciamo, di visualizzazione, alla modalità di modifica. Ogni riquadro è una sezione, abbiamo sempre una sezione forum che viene creata automaticamente e qua abbiamo definito quattro sezioni o argomenti, una all'introduzione, una ai materiali didattici che oggi riempiremo, una alla registrazione delle lezioni e una magari al punto delle consegne dell'attività a singolo, dove poi chiederete ai partecipanti e ai vostri studenti di o fare delle consegne o svolgere delle attività che verranno poi valutate. E poi abbiamo lasciato un argomento vuoto che possiamo poi riempire successivamente. Allora, quindi per passare nella modalità attiva modifiche, io devo cliccare sul pulsante attiva modifica e come risultato ottengo che all'interno di ogni sezione compaiono dei simboli. Ripeto il significato, il simbolo della croce serve per spostare i su e giù gli argomenti e riordinarli a seconda delle mie esigenze, il simbolo ruota dentata serve per modificare quell'oggetto, in questo caso io ho dato un titolo al mio argomento e lo posso andare a modificare usando questo simbolo, e poi all'interno di ogni sezione, come vedrete, ci sono sempre un pulsante o aggiungi un'attività o una risorsa col simbolo più. In fondo avete l'occhino per nascondere la sezione che può essere utile quando state costruendo il corso e magari non volete farlo vedere ai vostri studenti. Allora, utilizzando l'argomento 5, quello vuoto per ora, io vi spiego adesso come ho fatto a inserire un video. Allora, il video nella didattica è chiaramente molto utile, specialmente in tempo di dad, dove io l'ho usato spesso assegnando a loro dei video da analizzare e su quello farmi dei lavorati, quindi produrmi dei contenuti una volta visionato il video e magari riflettendo su quello che avevano visto. Quindi lo strumento video, visto che lo possono fruire tranquillamente con i loro dispositivi a casa, dai canali YouTube oppure dal Google Drive, se voi avete caricato questi video all'interno di un vostro cloud, è molto utilizzato. Quindi anche in Classroom è consentito di inserire dei link che vi mandano ad esempio dei video. Quello che ad esempio consente anche Moodle è di implementare dentro la pagina il cosiddetto video. Non esiste una risorsa spessamente chiamata video. Come vedete c'è una risorsa chiamata cartella, così ripassiamo anche le risorse. Ripeto, le risorse sono materiali che do allo studente per studiare, per approfondire gli argomenti. La risorsa etichetta, che sono dei testi che inserisco nel mio argomento. E la risorsa file, che è la più generica, vi do un PDF, vi do un Word, vi do un PPP. Tutto quello che io posso caricare all'interno del corso dal mio computer, l'upload di un contenuto digitale. L'IMS, i contentment package, sono dei pacchetti già pronti, sviluppati con altri programmi. Ad esempio, utilizzando anche il protocollo SCORE. Ma quindi sono dei pacchetti integrati da altri programmi. Poi se mai li approfondiremo, ma mi sa che non c'è. Oppure dei contenuti zippati, che consentono di integrare contenuti provenienti dall'esterno. La risorsa Libre è molto utile, molto bella, perché vi permette di creare veri e propri libri digitali, ebook. Gratuiti e poi dopo visionabili anche scaricabili. Quindi la risorsa Libre è molto bellina, che la vorrei provare. Dopo, se abbiamo tempo, vi farò vedere un esempio di un libro. La risorsa Pagina, che chiaramente dal nome si capisce che potrebbe essere un link a una pagina web, e la risorsa URL, che è l'indirizzo, ad esempio, di un link esterno proveniente da un sito. Ad esempio, cosa vi verrebbe in mente di usare se io voglio inserire un video in questo punto? File. Un video. URL. URL. Perché il file è un file, noi abbiamo un limite, andrebbe a occupare il vostro spazio sul vostro moodle. Quindi di solito non si usa il file, perché i video sono video di grandi dimensioni, che occupano parecchio spazio, e quindi è meglio non inserire il file stesso, ma inserire chiaramente un collegamento al video. E magari... Ecco, scusa, con l'occasione, qual è lo spazio disponibile per ciascun insegnante, per ciascun corso? Allora, mi sembra che sia 20 giga in piattaforma. 20 giga. Sì, però c'è un'altra limitazione, che è quella del singolo file. Cioè, nel senso, se io vado a aggiungere un file, ti faccio vedere, vedete che nelle impostazioni, anzi, nella... Nella... Dove è andato? Cioè, la dimensione massima del file caricabile. Ok? Non è... Ad esempio, se vado ad aggiungere un file qui, andiamo questo file, e scelgo un file, ad esempio, da questo guida di Moodle, seleziona questo file. Cioè, quando io arrivo a un numero massimo di spazio, lui me lo fa più caricare, perché c'è un limite di 5 giga... di 5... di 32 mega di spazio disponibile, per ogni file caricato. Chiaro? Per ogni file, non per tutto il pacchetto del file. No, no, ogni file non può superare, mi sembra, i 32 mega. E questo l'hai impostato te, come amministratore? L'hai impostato dalla piattaforma, perché chiaramente, se tu ti diamo uno spazio limitato, non è impostato dire, l'hai impostato dagli sviluppatori, perché chiaramente è un limite alla grandezza del file che si può caricare. Comunque lo vediamo dopo il discorso. Come pure 20 giga per ogni corso. Per ogni... Sì, mi sembra che... No, per ogni corso. Per ogni utente. Per ogni utente? Sì. Però, attenzione, io sto parlando di spazio dei repository, cioè di spazio tuo dove carichi... Ad esempio, se io carico, sta a vedere, aggiungo un file qui, io ho file del server. Cosa sono i file del server? Sono tutti quelli che ho memorizzato io negli anni nel mio spazio a disposizione. È come una memoria che hai dentro, collegata al tuo account sulla piattaforma. Ok? Una cosa è lo spazio che hai distrutto, è come un drive. Facciamo un'ipotesi. Una conta, invece, è quello che poi utilizzi di questo e lo metti in un corso. Se quel file lo usi in quattro corsi, non va a occupare quattro... Perché poi lui fa dei riferimenti al solito file. Quindi a questo punto ti chiedo, quant'è lo spazio in piattaforma per ogni utente? Quello, ti ho detto, lo spazio in piattaforma per ogni utente dipende, per ogni corso non esiste, perché può essere al massimo 20, però te hai un archivio cloud di 20 giga da disposizione sulla piattaforma, dove puoi caricare, esempio, questi qua sono tutti i corsi che ho fatto io e l'insieme di tutto questo materiale sarà 20 giga dentro il sistema. Non può essere superato. Quindi capite benissimo che non posso metterci un video, che solo il video magari mi occupa 400 mega, un video, non so se mi sono spiegato. Quindi nei video chiaramente è sempre opportuno usare un altro sistema che è il collegamento. Però qua apriamo un discorso. Come vedete... Un momento. Come vedete cosa succede quando io carico un video? Mettiamo che io voglio caricare un video su come si usa Moodle. Io vado su YouTube, abbiamo la fonte più semplice che noi abbiamo per trovare video, cerco Guida a Moodle, cerco se esiste un video che mi parla di Moodle. Eccolo qua. Questo qua magari mi piace. È un video che dura 20 minuti, impostazione fondamentale di Moodle e creazione di corsi. Prendo questo bel video. Ok. Cosa vi viene da fare? Se dovreste metterlo in Classroom, cosa prendereste secondo voi? Il? L'URL. L'URL. Prendo il link in alto, vado nel mio corso, lo decido di mettere nell'argomento 5. Anzi no, lo mettiamo nell'argomento... Dove era? No, questo qua. Materiali didattici per corso. Qua, in questo qua dove ci sono i materiali didattici. Aggiungo un'attività. Abbiamo detto, scegliamo l'URL, giusto? Scelgo l'URL, aggiungo e mi chiede un titolo. Allora, video sulla creazione di corsi. Corsi, Moodle. Ok. Lui vuole obbligatoriamente anche una descrizione. Vabbè, ci metto breve. Vedete che è in rosso. Tutto quello che è in rosso lo vuole. Breve video sui corsi. E qua mi ci metto, chiaramente, il mio URL. L'aspetto, lasciamola stare così, e salvo e visualizzo. E salvo e torno al corso. Cosa è successo qui dentro, praticamente? Come vedete, all'interno del mio corso, termino la modifica, all'interno del mio corso cosa succede? Che io ho nella sezione materiali didattici corso d'ambito, vedete che c'è l'immagine del link che va su internet, video sulla creazione di corsi Moodle. Clicco e lui mi parte il mio video. Che abbiamo... Cos'è successo? Cos'è successo? Che lo studente è uscito dalla piattaforma, cioè è fuori uscito, praticamente è andato al di fuori di Moodle, e è andato a visionare qualcosa che sta nel mondo internet, che sia un video su YouTube, che sia un qualsiasi altra cosa. Guardate cosa è successo invece di quello che ho messo io sopra. Cosa c'è in quello di sopra che ho messo io? Il video è stato, in gergo informatico, embendato. Cosa vuol dire? Integrato al corso. E l'utente, quando lo vede, come in questo caso, lo può vedere restando dentro la piattaforma. Quindi, come vedete, sto riascoltando la lezione dell'altra volta, posso andare avanti a vedere le cose che ho fatto, però non esco dal mio Moodle, rimango integrato, inserito nel mio corso. E questa è una cosa importante, perché molto spesso i ragazzi, quando si mandano fuori, da un video ne cominciano a vedere due, andare di qua, YouTube perde, perché poi crea un sistema di andare a consigliarti video associati a quello, è un sistema per chiaramente, per garantire l'aumento delle visualizzazioni dei video, quindi anche loro lavorano su questi strumenti, perché per loro aumentare la visualizzazione vuol dire aumentare la realizzabilità del portale, e quindi loro escono da questo e vanno nella piattaforma. Quindi, a volte, è utile farli ristare nel corso. Quindi vi farò spiegare come utilizzare sempre lo strumento video e far sì che il video sia embeddato, cioè sia integrato nell'argomento, come ho fatto io nel primo esempio precedente. Allora, per fare questo, si può invece usare un altro tipo di risorsa, che è la risorsa, ve la faccio vedere subito, aggiungo un'altra attività, invece che usare la classica URL, uso la classica etichetta. Allora, ripeto, cos'è l'etichetta? Sembra, è un po' un'escamotage, però è molto utile l'etichetta, perché poi dopo l'etichetta ti consente di integrare dentro una pagina web, praticamente. Perché poi con l'editor che hai integrato, hai un editor da tutto effetto, un'etichetta HTML. Il modulo l'etichetta consente di essere immagini, testo, nella home page del corso, nella home page, vuol dire immagine e testo, io aggiungerei anche video, oltre immagine e testo. Qua non l'ho scritto, ma si può fare anche con i video. È possibile usare etichette per dividere elenchi, dare una leggibilità, commentare le cose che dovete fare, visualizzare i video fuori e suoni direttamente nella home page del corso. Vedi che c'è anche scritto qua. Aggiungi breve descrizioni alle sezioni del corso. Come si fa a utilizzare l'etichetta? Si aggiunge l'etichetta. L'etichetta è l'elemento più semplice, perché vi chiede solo di scrivere del testo. Ok? E io devo scrivere qua quello che voglio scrivere all'interno del corso. È un editor a tutti gli effetti, però ha una caratteristica. Io posso scrivere, ad esempio, video su come caricare i corsi. posso andarlo a formatare mettendolo magari in testazione 2, eccetera, eccetera, centrato, fare tutte le cose che mi pare. La cosa interessante è che attraverso il pulsante HTML, perché in sé informatica lo sa benissimo che è il linguaggio con cui si vengono fatti tutti i siti web, io posso andare a inserire il codice di YouTube che mi permette di far sì che venga visualizzato in questo punto il video. Dove lo trovo questo codice? Lo trovo all'interno di YouTube. Questo qua è il vostro video che avete scelto. Avete un pulsante Condividi in fondo. Invece che prendere il link, quello che avete in alto, che è quello classico che prendete quando fate un link per metterlo in Classroom, andate in basso e c'è un pulsante Condividi. Condividi, oltre ai vari social, Facebook, Twitter, Blogger, eccetera, eccetera, ha una voce per tutti che si chiama Incorpora e c'è il simbolo proprio minore e maggiore. Questa voce Incorpora vuol dire, guarda, prelevami il codice HTML che mi incorpora il video dentro un altro sito. Potreste metterlo anche in un sito web. Quindi, se clicco Incorpora, quella a destra è il codice che dovete prelevare da inserire in quella pagina che vi facevo vedere. Quindi io prelevo tutto questo codice, addirittura posso stabilire di iniziare dal terzo minuto. Magari i primi tre minuti non mi interessano vederli. Inizio più avanti. Quindi posso stabilire anche un inizio del video successivo a quello tradizionale che è al video. L'importante è che alla fine voi prendiate tutto questo codice, quindi invece che prendere il link che è in alto, prendete tutto questo codice che è dentro la sezione Incorpora video. Lo copiate. A questo punto tornate alla vostra etichetta e andando nella voce HTML lo semplicemente incollate qui sotto. Questo è un linguaggio che è quello che viene usato per fare siti web che si chiama appunto HTML. Usa un tag un po' obsoleto che è i frame però per ora lo gestisce ancora. Però io facendo aggiorna come vedete il video mi appare come anteprima dentro la mia paginetta. E a questo punto io posso salvare e tornare al corso. Il risultato... Posso fare una domanda? Esatto. Mi sembra anche più sicura questa modalità a me. Sicura? Perché con il link possono poi viaggiare come vogliono e andare... Quello che stavo dicendo all'inizio di questa spiegazione è che il link dopo si perdono perché il link dopo da un link le consigliano altri quindi si perdono su YouTube. Vero. È una soluzione che loro devono obbligatoriamente rimanere dentro il corso vedere il video e magari alla fine propogli un questionario propogli un documento da completare su quello che è stato fatto per vedere nel video quindi delle attività collegate alla risorsa che gli sei dato. Ok? Rifaccio rivedere faccio rivedere nuovamente il passaggio perché a volte per coloro che non l'hanno visto bene a volte più essere ostico. Ripeto il passaggio poi rimane registrato. Aggiungo un'attività scelgo l'attività etichetta la aggiungo l'attività etichetta mi do un titolo ad esempio video video poodle mi posso scriverci quello che voglio vado su YouTube mettiamo che prendo questo tutorial sulla programmazione oppure passiamo al corso PLC attenzione anche se c'è una pubblicità iniziale questa viene tolta chiaramente dopo quindi prendo questo corso sulla programmazione invece che copiare l'URL vado in condividi incorpora prelevo questo codice che mi da che è il codice di inbend ripeto è possibile anche se non è possibile farlo finire prima ma è possibile farlo iniziare dopo e qui stabilisco ora il minuto in cui voglio partire il video lo copio torno al mio corso vado a attivare questa parte che è l'editing della casella vado nella voce a Moodle a Moodle HTML e col CTRL e col CTRL V incollo aggiorno la pagina qui c'è il mio video importato salvo e torno al corso e questo qua è il risultato ho il video su come caricare dei corsi e il video di introduzione al PLC questa è la fase per poter caricare un video all'interno di un corso e chiaramente dopo terminata la modifica lo studente potrà andare a visualizzare tutti i suoi contenuti e andare a mandare in play il video che ho scelto senza uscire dalla piattaforma come si fa a rimuovere un'attività o una risorsa l'attività per rimuovere semplicemente ogni attività e risorse sotto ha sempre questi pulsanti questo per spostarla modificarla ad esempio voglio modificare il video non mi piace questo vado qui vedete che ho il video ritorno del codice atta TML magari lo butto via tolgo questa parte qui lo colgo aggiorno e il video non c'è più quindi tolgo la parte posso anche aggiungerci immagini qui dentro attenzione quindi posso andare a prendere anche le immagini dicevo che in etichetta non c'è che è detto che ci sta solo video ci possono stare anche immagini posso anche inserire dei documenti prelevandoli da Word ecco importante questa funzione secondo voi se voi avete un documento scritto in Word adesso io qua non ce l'ho perché c'ho il Mac e non ce l'ho installato Word per Mac sappiate che a volte fare il copia e incolla dei contenuti da un editor come Word comporta a volte delle differenze formattazioni quando lui le trasferisce dentro un editor come questo tipo quindi consiglio se dovete portare dentro un contenuto prelevato da Word di non fare il copia e incolla tradizionale ctrl c e ctrl v ma di andare direttamente a prendere questo pulsante in colla da Word qui dentro fate il ctrl v del vostro testo che avete copiato da Word e a quel punto lui vi toglie e vi sistema la formatazione in modo che sia visualizzato correttamente nell'edito di Moodle e lo stesso vale per i file di testo quindi poi se avete il pulsante per cambiare il colore evidenziare per vedere i caratteri speciali le inchie puntate le inchie numerate i rientri queste qua sono per chi ha usato un po' di office automation le emoticons le formule che non funzionano i simboli le tabelle quindi dovete fare una tabellina io posso definirmi una tabella di due righe due colonne inserisci e qui posso scriverci in tabella mettere in modo tabellare tutti i miei contenuti come può funzionare le tabelle di Word ecco a questo punto lui costruisce è proprio è un vero e proprio editor HTML per chi ha fatto un po' di creazione di siti web o ha usato questo sistema e a questo punto quindi una volta finito voi potete fare salve torno al corso e chiaramente e poi avete il pulsante per buttare via il contenuto e avete il pulsante per nasconderlo magari per ora l'ho messo lì ma non lo voglio far vedere ai ragazzi e quindi ora buttiamo via le cose che abbiamo messo quindi questa è la prima spiegazione riferita all'utilizzo del video il flag scusa il flag lì attivo nel quadratino sulla destra che serve? quale il flag attivo dov'è? questo? questo? questo qua vuol dire gli stenti possono spuntare manualmente questo elemento indicando che è completato è una checklist che serve quando io ho completato le attività quando loro hanno svolto se io faccio l'anteprima loro vedranno vedi che vengono vuoti io magari questo qua l'ho fatto me lo spunto il docente ha una possibilità di vedere chi ha completato le varie attività e quindi magari impostare e vedere magari chi ha spuntato tra tutti i suoi studenti le varie cose che sono state proposte quindi vedere l'avanzamento dei lavori magari detto questo qua l'ho fatto me lo spunto mi manca ancora da vedere questo video da fare questa attività è una storia tra di checklist che è utile che è indipendente cioè ognuno ha le sue chiaramente ognuno può spuntarsi le sue voci è legata all'utente non è legata al corso questa checklist capito quindi ognuno può metterci gli vari spunti per capire se voi andate a spuntare questo cose io potrò vedere chi è di voi ha riuscito a completare l'attività ad esempio dopo vedremo come si può usare farò vedere il registro che posso controllare chi è che ha fatto il completamento dell'attività quindi questa qua è la prima parte che vi volevo far vedere sui video la seconda e poi dopo proviamo noi a fare qualcosa perché oggi volevo farvi lavorare un po' di più voi e non fare due ore di spiegazione frontale ritorno su attiva modifica purtroppo le cose dentro Moodle sono tantissime allora la cartella e il file velocemente una cosa sui file perché secondo me è utile per tutti l'abbiamo già visto prima il file è la cosa più semplice caricare un pdf un word un ppt un excel tutti i documenti elettronici quando aggiungete un file ad esempio io dico dispensa dispensa su html stiamo facendo un corso di html guarda e guarda e studia guarda legge non più che guarda si è una visione più studia fino a pagina 10 ok per esempio a questo punto ecco volevo fermare su questa questa finestra qua che serve per caricare file come si caricano o si fa il classico drag and drop trascinamento o si fa attraverso aggiungi allora è possibile aggiungi cosa vi permette di fare questa finestra che si chiama file picker è una finestra di interfaccia fra Moodle e il mondo esterno quindi è quella che vi permette di buttare dentro i materiali al vostro repository quei famosi 20 giga che vi parlavo prima ok da dove li posso prelevare io ad esempio io posso averci un contenuto che ho già utilizzato in un altro corso non lo vado a ricaricare perché magari nei file del server nel corso adesso dovrebbero apparire i miei corsi adesso li sta caricando file recenti ad esempio vedete questi qua sono i file che ho già utilizzato mettiamo che questo qua sia il manuale del docente vedete che mi fa vedere tutti i file che ho già utilizzato file recenti aggiorniamo dove mi formi tutti i corsi perché no? perché questo qua mi fa solo sugli altri corsi mi lavora non su quelli personali va bene comunque sui file recenti sono gli ultimi che ho utilizzato magari sono già caricati la volta scorsa in un altro corso non serve che le ricarico un'altra volta ad esempio ho questo manuale di Weeby lo prendo scegli questo file e lui me lo carica posso caricare contemporaneamente più file posso metterci la guida Moodle eccolo qua posso anche andarlo a prendere da un URL cioè cosa vuol dire esempio da Drive posso indicare se ho condiviso in Drive un file prendere l'URL da Drive scaricarlo e metterlo lì dentro posso da Wikimedia l'importante posso collegare al mio cloud cosa vuol dire che se io vado su Weeby Google posso fare il login a Google ad esempio io ho il mio Google Drive del Pertini avanzate apri mi chiede l'autorizzazione e a questo punto lui mi sincronizza col mio Google Drive e qua tutto il mio Google Drive che ho nella mia scuola e quindi ho tutti i Meet Recording dei miei corsi ho tutte le mie cartelle da cui posso andare a prelevare i miei file da buttare dentro le posso vedere in modalità elenco in modalità cartella in modalità quindi posso andare a prendermi tutto il materiale che io ho con il mio e attenzione la volta che l'avete sincronizzato dopodiché non è basta una volta sola tutte le volte che vi rilogate lui quando andate su Google Drive vi farà vedere già il vostro Drive quindi qua sono una cartella che ho dei progetti eccetera la stessa cosa per chi usa Dropbox adesso all'inizio molti usavano più Dropbox che Drive come Cloud è il primo che è uscito mi ricordo che il primo Cloud fu Dropbox non so di voi che ce l'ha ancora io ce l'ho ancora sì sì anche per me lo è tuttora eh lo trovo io sono arrivato a 20 giga gratuiti di Dropbox perché all'inizio erano 5 giga poi se vi ricordate davano 500 mega ogni utente che invitavi davano lo spazio gratuito quando invitavi le persone e quindi quando ero nei primi anni spiegavo come si usava vi mando il link per potervi registrare a tutti i ragazzi 20 mi arrivavano 5 giga al giorno di spazio gratuito tecniche di insegnamento e di collaborazione chiaramente e quindi ho aumentato anche io ho parecchia roba su Dropbox uno è stato anzi l'altro è stato il primo di cloud che funzionava molto bene come sistemi cloud Google Drive è venuto dopo e anche One velocissimo pure molto veloce sì e quindi potete da questa finestra sincronizzarvi anche l'altro Dropbox quindi c'è un errore su Dropbox JSON non valida ormai vabbè voi funziona comunque potete collegarlo a Flickr Picash esatto voi per sincronizzarvi degli altri repository da cui prelevare il vostro file quindi esempio voglio prenderci questo documento carta intestata oppure comunicazione di PCM lo prendo e lo porto nel mio Google nel mio corso mondo quindi questa finestra è molto utile per interfacciarsi con l'esterno a questo punto una volta che l'avete ecco l'aspetto visualizzata automatica lo potete aprire in pop up aprire esternamente oppure di solito lo apre all'interno del corso ok e in bendare dentro dipende che tipo di visualizzazione volete dare in bendare vuol dire inseguita nel corso però magari a volte se è un documento troppo lungo a volte diventa troppo grande apri e è automatica mi sembra che ti apre in automatico l'acrobat reader se è un pdf o un word se è ad esempio un doc a quel punto salva e torna al corso e io qua avrò dispensa su html e vedrò il manuale docente wimby e dovrei vedere anche sotto l'altro in una pagina vedi in fondo dovrebbe essere sotto leggi fino a pagina 10 la nota che ho detto mai l'altro non è venuto alla guida moodle imposta file primario perché uno è primario e uno è secolario questo qua è diventato l'altro come usare moodle comunque come consiglio è meglio metterne uno per ogni contenuto almeno è più facile non fare mescolare insieme più file all'interno del solito caricamento magari piuttosto fate un file per una guida e un file per l'altra chiaramente poi dopo potete andare a eliminarlo facendo in questo modo oppure scaricarlo e fare altre cose sul corso questo è il contenuto file il terzo e l'ultimo strumento che vi insegno oggi poi passiamo a far rifare qualcosa a voi è lo strumento adesso torno al corso abbiamo visto i video la dispensa quello che vi dicevo prima il libro che è molto bellino il libro la cartella è bastata semplice scelgo la cartella io ho una cartella con un serie di file viene caricata proprio la struttura con cui io posso navigare e trovare tutto il contenuto è un po' una sorta di un gruppo di file insieme quindi invece che dai un singolo file carico una cartella nel mio penina o nel mio computer ritrasporto tutta la cartella quello che devo far vedere è il libro quando sul libro guardate come bellino io voglio fare un libro digitale sulla creazione di siti web e ho fatto un libro su siti web libro digitale sui 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 chiaramente anche qua ho sempre l'editor che posso come prima fare in grassetto formattare addirittura metterci immagini a questo punto salva e visualizza io ho dato solo il titolo ok ho dato il titolo a questo punto li può iniziare a crearmi i capitoli del mio libro capitolo 1 introduzione cosa è un sito web e qua magari adesso per scriverci qualcosa prendo ad esempio da da wikipedia al solito cosa fanno i ragazzi per mettere un po' di testo eh solo per quello non perché quindi prendo sito web cos'è un sito web prendo il suo testo lo metto velocemente nel mio capitolo ho la funzionalità mi sembra per rimuovere la formattazione eccola eccola qua rimuovere il link lasciamo lo stare così rimuovere la formattazione ok cos'è un sito web lo metto un po' più grassetto eccetera eccetera salva e modifica cosa succede qua vedete che viene fuori a sinistra l'introduzione ok poi chiaramente torno sul libro e con il pulsante più vado ad aggiungere un nuovo elemento capitolo 1 il linguaggio HTML e qua spiego magari cos'è il linguaggio HTML ok salvo le modifiche capitolo 1 capitolo 2 ha scritto capitolo capitolo 2 costruisco proprio però voglio farvi vedere ad esempio i link ok cosa sono eccetera vedete che mi costruisce il mio libro posso addirittura andare a aggiungere dei sotto capitoli ok nel senso magari voglio aggiungere qualcosa che sia dentro il capitolo 1 ok e quindi magari andare a inserire all'interno con questi sposti magari i capitoli vedete lo posso portare di sopra lo posso portare di sotto questo lo cancello con questo qua aggiungo un'altra voce ma posso anche andare a inserire delle voci all'interno di un altro capitolo perché perché se io metto cosa su che capitolo eravamo rimasti aspetta non mi ricordo più per esempio sul capitolo html vado a aggiungere qui nel capitolo html e ci metto il tag body che è un tag dell'html cosa serve lo metto che sia un paragrafo c'è un paragrafo salvo questo vedete che è venuto dal 2 dentro il 2 1 vedete qui posso metterci il tag ad esempio head che spiego cos'è anche questo è un paragrafo e scrivo la definizione praticamente vedete che mi viene fuori il 2 1 il tag head e il 2 il tag body posso magari mettere prima questo la cosa bellina una volta che vi siete costruito il vostro libro è che poi il libro lo potete addirittura stampare o quando io termino la visualizzazione del libro e torno su ad esempio la termina modifica loro i ragazzi voi come lo vedete lo vedete in questo modo qua tag body tag head il link e avete la possibilità anche di andare a stampare il libro e lui genera un vero sommario con tutto quello che ci sta dentro non so se lo vedete si si da libro digitale su siti web dal sito portale legato il corso il libro su siti web stampato Andrea in data sommario questo qua è il titolo e qua c'è proprio il link di navigare in stile Wikipedia che veramente vi permette di crearvi veramente un libro digitale fluibile per i ragazzi lo potete stampare addirittura a colore qui vi fa vedere le varie pagine del libro e ho formato dell'imposta in che senso fogliarlo nel senso un libro digitale spogliato sul cellulare per esempio tablet va scaricato dopo questo libro per poterlo fluire ma si può anche salvare in formato tipo i pub o kindle per esempio no questa qua forse nella versione nuova sì però per ora questa versione mi sa che non si può salvare in formato kindle è un contenuto che si può navigare tranquillamente perché ha un link vedete in alto quindi google questo qua voi con questo link che date poi è il link che potete accedere però è un costruttore di contenuti che vi dà la struttura del libro nella quale potete andare a far costruire l'unica cosa che non potete fare è che chiaramente questo qua ci lavora solo il docente provate a entrare siete tutti nel divisibile siete nel corso potete andare sul mio libro che vi ho fatto nel corso moodle andate tutti sul mio corso vediamo cosa succede se voi navigate il mio libro lo potete stampare io non lo vedo il libro è dentro è dentro come non lo vedi è dentro ambito guastini 2020 si chiama nella sezione argomento 5 libro su siti web è l'ultimo argomento l'ultimo lo so l'ho visto ma non non è ci clicco ma non mi si apre l'argomento 5 anche a me non mi dà la manina tipo a me funziona io riesco a vederlo allora funziona sì anch'io io ho fatto aggiornapagine e poi mi è comparso ok allora lo torniamo ma nel mio sito dove c'è il sito ah ok adesso va bene ho fatto anche il giorno l'ambascia l'introduzione dov'è che si aggiorna? ma come si fa andare sul corso? allora ripeto per andare sul mio corso devi andare nel in fondo altri corsi altri corsi 2000 formazione ambito 013 comunque lo puoi trovare anche scusami in alto dove c'è scritto i miei corsi in alto c'è scritto i miei corsi in alto blu guardami qui dovresti trovare 2020 ambito guastini nel menu proprio in alto invece mi ha detto my home profilo i miei files calendario messaggi eccetera c'è i miei corsi e c'è scritto 2020 ambito guastini l'hai trovato? no mi condividi il tuo schermo? altri corsi altri corsi sì ma allora 2020 formazione ambito sì sì ci sono poi c'è 2020 sì e dentro c'è ambito aspetta come l'ho chiamato mi fate perdere anche l'ho chiamato corso ambito l'ho trovato l'ho trovato l'ho trovato l'ho trovato l'ho trovato c'è libro sui siti web l'ultima se scori proprio in fondo alla pagina io ho trovato il corso d'ambito primo ambito per il 2020 corso d'ambito 2020 guastini sì quello lì bravo va in fondo alla pagina scori fino in fondo dove c'è anche il mio video in fondo c'è un link libro corso l'ho chiamato libro su siti web sei fatta? no ti condividi il tuo schermo scusami così me lo vediamo non ti ricordi come si fa? allora vai in basso a destra fai condividi il tuo schermo presenta ora il tuo schermo adesso l'ho trovato l'ho trovato ah meno male l'hai trovato il mio libro i libri su siti web in fondo al mio corso? ho trovato l'argomento 5 sì sì si è trovato tutto oh che perfetto meno male ok torniamo quindi questo qua come vedete è uno strumento ah no allora no non aspetti materiali didattici corso d'ambito no dimmi il corso scusami punto di consegna adesso ecco sotto punto di consegna ecco sotto punto di consegna c'è scritto argomento 5 dispensa su html libro su siti web libro su siti web clicca su quella voce lì libro su siti web ok clicca lì sopra introduzione a destra a destra a sinistra c'è tutti i capitoli del libro che ho creato e a destra c'è tutti i contenuti ok per esempio vuoi fare l'introduzione io ho creato in due minuti un piccolo cioè proprio una bozza di un libro e si apre un menu potete stamparlo anche voi vi sembra il libro giusto? sì giusto potete stamparlo anche voi visualizzare come viene impaginato è proprio un vero e proprio contenuto digitale da poter costruire l'unica cosa che non è collaborativo questo qua nel senso che non può permettere ai ragazzi di metterci dentro dei contenuti vi torna? quindi voi avete nella parte destra dentro l'oggetto libro avete la stampa avete l'importa io per esempio in portacapitoli in portacapitoli posso importare ad esempio da un file scelgo un file e mi porta il capitolo prelevando da un file stampa il capitolo singolo dopo se mai provate a fare nel vostro corso così per una semplice prova questo è un oggetto di materiale didattico perché aiuta è molto molto bello perché dopo di far sì che pian piano vi potete costruire la proprio vera il vostro libro digitale della vostra disciplina in ottica di realizzazione di contenuti da sostituire al libro digitale perché uno pian piano un anno lo faccio con un pezzo magari faccio un modulo poi un anno l'anno dopo e posso riutilizzarlo in tutti i corsi che voglio perché una volta creato nel corso ad esempio che state facendo ora lo potete scaricare e riportare in tutti i corsi che avete fatto o lo modularizzate se lo fate specifico per un argomento oppure in classe dipende da come volete lavorare se invece volevo posso fare una domanda volevo chiedere si può aggiungere un pdf se hai già pronto o un word invece di scrivere se ce l'hai già scritto si può fare portarlo dentro il libro portarlo dentro il libro allora il contenuto devi se ti vai a vedere nel libro quando io vado ad aggiungere adesso torno in modifica io vado a in post attiva la modifica io posso chiaramente andare ad aggiungere una pagina allora nel contenuto ovviamente qua io posso solo scrivere il testo non posso prendere un file posso solo dargli il titolo ci posso incollare il testo posso incollare il testo posso dirgli che è un paragrafo facendo che è un paragrafo mi mette chiaramente un sotto capitolo praticamente se gli dico che è un paragrafo però non posso incollare lo posso solo incollare l'unica cosa posso importare dei capitoli qua non l'ho ancora provato devo essere sincero lui dice che vuole un file zippato io se provo a prendere un file ad esempio pdf vediamo cosa succede proviamo a portarci dentro sinceramente l'importazione diretta di un file pdf non l'ho mai provata tanto quindi la provo anche a fare nella che siamo qua la prendo dal mio file scegli un file prendo questo qua articolo carica questo file a questo punto importa vedi mi dice che non è un tipo di file valido ok va bene però si può copiare in collana vedi scegli un file zip contenente file html cioè lui ne porta più di uno però tutti insieme però sono tutti in formato html non possono essere né formato word né formato però chiaramente puoi andarti a aprire come questo attenzione che quando copiate da un pdf non mantiene la formatazione non vi va ad esempio se c'è una riga che ci ha scritto tre parole lui dopo tre parole va a capo dovete rimuovere tutti i ritorni a capo perché lui dà una formatazione sua dovete manualmente andare a ritogliere tutti i ritorni a capo che lui automaticamente mette a fondo di ogni riga quindi dovete rilavorarci un po' a livello di formatazione però il testo specialmente se non ci sono tabelle perché le tabelle sono indigeste al copia e incolla da pdf lo saprete per esperienza perché quando c'è delle tabelle comincia ad andare in crisi il taglio ancora è un semplice testo lavorandoci un po' potete tranquillamente copiarlo da pdf questo è facile da fare questo è lo strumento prego l'altro invece che poi termino con oggi che sulle 4 voglio farvi fare un'ora di lavoro l'ultimo invece è uno strumento più collaborativo allora questo qua non è una risorsa ma è una attività e vi spiego cos'è avete mai sentito parlare di wikipop? certamente sì sapete cos'è un wiki? avete mai utilizzato il wiki nella vostra didattica? no no allora un wiki cos'è? tanto per cominciare wiki deriva da wikipedia mi dici Mario? ciao salute salute Mario chiudi il microfono potrebbe essere pego Mario Mario chiudi il microfono eh? per sé sono Luca e otteniamo il microfono di Mario ok torniamo a noi allora dicevo che il wiki deriva da wikipedia che è un po' una biblioteca diciamo digitale ipertestuale dove i ragazzi possono trovare delle voci che vanno a ricercare ogni voce può essere richiamata dalla sottovoce col simbolo col classica navigazione un ipertesto è un mega ipertesto dove vengono collegati tanti argomenti fra di loro è un po' la bibbia dei ragazzi diciamolo ce l'ho com'è vanno a fare una ricerca la prima cosa che vanno vanno a cercarlo su wikipedia perché di solito è il primo che viene fuori nei risultati di ricerca quando cercano qualcosa perché non per altro è per questo perché il primo che trovano è quello che è buono per loro purtroppo e questo è così però wikipedia è nata appunto come una biblioteca aperta open cosa vuol dire? che chiunque di noi volendo può interagire sulle varie pagine portare modifiche creare dei contenuti in puro spirito collaborativo e quindi creare proprio perché è nata con la collaborazione di tutto il mondo wikipedia allora cos'è quindi un wiki? un wiki non è nient'altro che un contenuto che faccio creare ragazzi in modo collaborativo stile wikipedia vi faccio vedere come funziona un wiki allora un wiki è molto bellino per fare fare ragazzi perché perché una volta che inserisco ah intanto per cominciare non è una risorsa ma è un'attività e come tale può essere valutata come abbiamo visto l'altra volta valutare l'ossario valutare il forum che dicevo quante volte un ragazzo ha interagito con la classe quante volte ha risposto ai problemi degli altri quante volte ha magari aggiunto una voce a un dizionario eccetera eccetera quindi io andando aggiungere un wiki questo lo facciamo insieme verso il wiki perché potete vi invito ora a collaborare con me a costruire questo wiki su un argomento di informatica ok quindi io definisco l'oggetto del wiki ok stiamo a parlare di html e voglio fare un wiki sui siti web ok come si costruiscono siti web è un po' l'argomento che ho fatto con il libro la differenza è che il libro lo costruisco io purtroppo e glielo do così com'è è una mia redazione lo produco io ci metto quello che voglio i ragazzi lo fluiscono lo stampano e basta sono soggetti passivi del contenuto il wiki io do un argomento gli do un input iniziale magari sono queste le voci che dovete analizzare però lo costruite voi non lo costruisco io come viene generato un wiki allora io chiaramente do un titolo allora wiki su html e siti web ok ovviamente sembrerebbe che qua devo dire se è un wiki collaborativo o un wiki individuale se è un wiki collaborativo vuol dire che tutti voi potete entrarci dentro se è individuale ognuno al proprio potete andarci diversamente allora come comincia allora ragazzi realizziamo un wiki su come si costruiscono costruiscono i siti web allora magari siamo in una classe e vi do un po' come deve essere fatto allora Daniele io posso dire gli argomenti sono gli argomenti da inserire sono due punti allora cosa è un sito web un capo cosa 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 html è partito chiuditi via vai via non si chiude l'affari cosa è html cosa sono i link i link poi ci posso mettere ad esempio un altro argomento dei siti la formatazione con css che è un altro argomento gli argomenti che devono sviluppare e poi magari posso dire questa la fa ad esempio Daniele questa la fa ad esempio Paolo adesso devo dei nomi a caso e assegno i vari argomenti ai vari studenti la fa Monica quella possiamo togliere potete dire anche a voce questa cosa qua non potete non serve che le scrivete qua però a volte io li scrivo per comodità per fargli ricordare la cosa importante è che io poi dopo quando io voglio assegnare questo tipo di attività che lo svolga qualcuno usando il simbolo doppia parentesi quadra vedete racchiudendo fra doppia parentesi quella parola lì permette allo studente di generare delle sottopagine cosa vuol dire sottopagine io metto questo contenuto fra doppia parentesi quadra proprio come solo racchiudere fra doppia parentesi quindi metto la parentesi di QA quanto almeno mi è ingrandito lo schermo alt così e metto la formattazione con CSS e dai alt ho fatto quanto almeno ok ho fatto questa cosa qua a questo punto salva la pagina iniziale si chiama city web questo è obbligatorio dare un nome alla pagina principale salva e visualizza ok cosa è successo provate voi a cliccare sul wiki ok che vi ho appena caricato cosa vedete cioè si vedono gli argomenti nel senso quello che si vedeva da video si vede anche qui gli argomenti da inserire sono cos'è un sito web eccetera è la definizione sotto vedete siti web si c'è venuto scritto siti web ah si ok si si aspettate un attimo che mi è venuto fuori che il link mi ha dato l'aiuto fate un attimo che il link va tolto quasi link e metto come era fatto un contrat allora salvo ok lo vedrete lo vedete anche da me che alcune parole sono in rosso cliccabili vedete i ragazzi ragazzi realizzano un wiki sul sito web i ragazzi sono cos'è un sito web cos'è l'html i link e la formattazione che css vedete che sono cliccabili queste parole e sono cliccabili si cosa vuol dire sono cliccabili se Daniele deve fare cos'è un sito web e clicca sulla parola cos'è un sito web aspettate a cliccarci tutti perché sennò crea solo Daniele oppure gli altri cosa viene fuori viene che lui può andare a creare la pagina relativa a cos'è un sito web gli fa creare il contenuto si esatto se ad esempio trova a scrivere qualcosa nella pagina se io dico su cos'è l'html io posso andare a creare la pagina su cos'è l'html e scrivere che l'html è un linguaggio di programmazione se la parola linguaggio di programmazione io voglio che diventi un link la rimetto la parentesi quadre e lui riferirà un'ulteriore sottopagina che potrete far creare ad altre persone quindi si sta costruendo quindi ogni volta che mettete una parola all'interno della doppia parentesi lui creerà un link per far creare quel contenuto allo studente quindi partendo da una pagina potrebbe essere una pagina principale con tante parole messe che fa una pagina su questa qua che avevo fatto vedere prima eccola qua questa che avevo fatto vedere qua c'è una parola chiave portale web qua c'è una parola chiave database qua c'è una parola a casa home page qua c'è una parola hosting web server client cosa vuol dire questo? vuol dire che voi quando scrivete una pagina in wiki se mettete quella pagina fra doppia parentesi quadra quella pagina quella parola lui farà sì che il ragazzo cliccando su quella parola andrà a creare il contenuto e spiegherà cosa significa quella parola e si creerà consensivamente e allo stesso momento nella pagina che crea anche lui potrà mettere delle parole fra parentesi quadre che creano delle sottoparole dei sotto argomenti quindi partendo da una pagina creare una sorta di ramificazione di un ipertesto chiamiamolo proprio ipertesto non è più che un sito web è un ipertesto in stile wikipedia dove ciascuno potrà andare a creare delle parole da rendere cliccabili e andare a dare delle definizioni su quel concetto che stiamo spiegando chiaramente i ragazzi di tutti che vanno a creare il link di solito io prendo un testo con io gli scrivo il link mi interessa che loro vanno a cercare a profondire e lascio che poi dopo li creano loro le sottopagini io parto dalla pagina principale e dopo oppure do una struttura come avete visto prima una serie di argomenti da discerare e ognuno poi andrà a costruirsi i contenuti che servono per spiegare le varie sottopagine il risultato è che si avrà un vero e proprio ipertesto stile wikipedia che parla di quell'argomento con la varia definizione dei vari sotto argomenti collegati alle parole che magari sono più difficoltose da comprendere questo non è una risorsa è un'attività perché dopo qualcuno di voi ha creato qualcosa io posso informare come ho fatto l'altra volta termino il mio il mio il mio wiki quindi esco dal mio wiki torno nel mio corso qui in fondo c'ho il wiki che ho creato però posso andare benissimo nel pulsante log e posso vedere l'attività wiki un html siti web ottengo log e posso vedere cosa che dianda ha visto l'uniti e lombardo l'ha uniti chi è che ha aggiunto delle pagine e vado a vedere le pagine me l'ha aggiunto vincenzo gamba andrea guastini lombardo le ho aggiunte due e io ho aggiunto il wiki io ho creato il wiki quindi vedete che con questo strumento di log posso andare a monitorare chi ha fatto cosa nel mio wiki cioè quella persona non è neanche entrato non è neanche fatto accesso e quindi vi ho una valutazione quindi nella mia linea di valutazione vi ho una valutazione approssimativa perché lui non è neanche entrato non ha fatto nessuna interazione col contenuto quella persona che ha aggiunto dieci pagine ha visualizzato almeno qualcosa quindi posso creare uno strumento con l'archivo però dall'altra parte posso anche monitorare tutto quello che fanno i ragazzi su questo wiki perché loro possono andare dettagliatamente a vedere come facevo quell'altra volta per le altre informazioni magari voglio vedere quelli che le hanno fatte voglio vedere chi ha cancellato adesso non è il caso vostro nessuno però se viene fuori mi è sparita una voce posso vedere chi ha cancellato magari una parola chiave o una pagina dico un esempio e quindi questo è una posso vedere a livello di un singolo studente quindi saluto ciao rinchenzo ciao vanno a trovare la capa vai salutala ciao e quindi voglio vedere Daniele ha fatto una volta l'ha visto alle 13 lasciamo perdere l'orario quindi posso vedere l'ora e il giorno in cui l'ha fatto l'interazione con il mio wiki e quante pagine ha aggiunto lui e in questo caso ho visto che ha aggiunto una pagina l'unica cosa che Daniele Lombardo quando aggiunge una pagina a sua volta può mettere nella pagina delle parole mettendole fra doppia parentesi che possono generare altri link che possono essere utilizzati da altri studenti per arricchire quella pagina non so se mi sono spiegato la logica e la filosofia che sta dietro questo strumento quindi partendo da un testo farlo diventare un ipertesto mettendoci fra parentesi quadri le parole chiave e far sì che i realcast interagiscono su questo contenuto affinché approfondiscono i contenuti immessi nella pagina è chiaro? sì o no? mi sembra i ragazzi quando ho finito di fare un pippone che cascano dalla serie va bene tutto chiaro ciao Nicola meno male dopo che è stato con il giornale Nicola bisogna dargli del lei dove sei Nicola? fatti se lo scoprì ieri l'altro c'era la tua foto sulla Nazione che cosa hai raccontato ai giornalisti? vai vai c'è il microfono oggi come ragazzi guarda sono famoso certo però comprati un microfono no ma ce l'ho ce l'ho per non disturbare per non disturbare a parte che oggi io prima per esempio sono caduto perché non so voi io questo temporale ho problemi di linea io purtroppo io sono all'aspetto c'è un sole che spazia le pinze arriva anche a Luca fra un po' il sole questione di tempo quando arriva qua dopo l'ora arriva a Luca siamo un po' prima più a ovest ok quindi questo è uno strumento che può essere usato in questo modo all'interno della classe ora mi inquieto per altri un quarto d'ora e vorrei che faceste questa cosa allora l'altra volta avete creato un corso potete o rimodificare quel corso se l'avete buttato lì a casaccio per fare qualcosa quindi andare a cambiare le impostazioni e liberarlo o magari ne create uno nuovo però iniziate a creare il corso che vi servirà per la consegna seconda che dovrete fare che ora non ve la carico ancora ma la caricherò la prossima volta oppure la carico anche ora che la seconda consegna prevederà la consegna di un link non di un documento cos'è un link? Un link è un corso praticamente ogni corso ha un link in piattaforma Wee qual è il link? è quello che abbiamo nella parte alta ad esempio il mio corso d'ambito in alto ha questo link Wee Moodle corso via eccetera eccetera questo è il link al mio corso chiaramente nel corso io dovrei essere inserito come docente non come studente come co-docente insieme a voi perché altrimenti non posso vedere tutto quello che avete fatto quindi saremo io e voi come docenti quindi dovrete sapere aggiungermi come docente insieme a voi al corso e dentro il quale vi chiederò di mettere alcuni elementi minimi per poter sapere se avete partendo dalla UF che avete pensato di sviluppare dovrete poi buttarmi giù con la scheda magari inserire alcuni argomenti dove date del materiale fate fare almeno un compito al ragazzo e inserite almeno due o tre contenuti che volete non solo file ovviamente perché altrimenti caricare un pdf non è che ci vogliamo però inserire almeno qualche elemento minimo che io vi discriverò nel compito che saranno semplicemente un documento tipo un pdf un piccolo libro di due o tre pagine se ce la facciamo il wiki non ve lo faccio un glossario vi do qualche elemento minimo che devono essere nel corso poi se volete metterci dei video tutto quello che volete costruire in più per me sta benissimo non è un limite in alto è un limite minimo per dire che è svolto in quattro ore chiaramente se no se io ho creato un corso mettete un pdf non penso che ci voglia sei ore di attività sincrona visto se lo sapete fare quindi cominciamo a strutturare quindi magari avviate il vostro corso pensando un attimino a quale tipo di argomento lo volete fare e prima cosa aggiungetemi come docente insieme a voi in modo che io posso con voi vedere quello che state svolgendo alla fine consegnerete il link in più per me sarà la seconda consegna che vi valuteranno allora la prima mi sembra noi abbiamo 12 ore di asincrona la prima mi sembra che erano 4 6 2 mi sembra 4 6 2 la prima valeva 4 ore la seconda 6 ore no la prima 3 ore era il conoscimento la seconda mi sembra che era un po' più altra erano 7 ore 10 l'ultima 2 ore per un piccolo documento di relazione finale ok quindi 3 ore vengono in piattaforma sono riconosciute per la prima consegna che abbiamo fatto dell'unità della 7 ore per l'aziluppo del corso e 2 ore per il documento finale che potrà essere una breve relazione sulle differenze tra la bibliotica che avete fatto voi tradizionali con gli strumenti e quella fatta sulla piattaforma Moodle quindi una piccola relazioncina finale queste sono le tre consegne che vi chiederò come la valutate come le misurate queste ore in piattaforma come vengono misurate misurate ora chiaramente sì ho capito come vengono misurate la misurazione delle ore svolte in piattaforma chiaramente è legata alla consegna e alla validazione del contenuto non posso dire se te ci hai messo nuda su un argomento più o meno esaustivo rispetto a un altro che la tua valga 3 ore e la sua valga un'ora io valuterò 3 ore per non le congegne che fate se è fatta non c'è l'accesso di piattaforma no no non valuto queste cose qua facciamo stiamo a fare siamo grandi e vaccinati adesso sto a contare ma in realtà con i ragazzi con i ragazzi che la mente può essere fatto anzi secondo me è utile farlo ma siamo tutti grandi non stiamo a valutare quanto tempo siete stati sul corso io vi devo vedere che siete stati sette ore collegati con il log basta che voi avete dato dimostrazione che avete acquisito quelle competenze per progettare una unità di apprendimento sapere utilizzare gli strumenti minimi per creare un contenuto sapere iscrivere almeno un corsista alla piattaforma oltre al docente sapere cambiare un ruolo come vi ho detto come docente insieme a voi quindi la competenza di sapere attribuire un ruolo a un utente della piattaforma e sapere caricare i documenti vedremo se la prossima volta volevo farvi perché questo è utile lo strumento questionario che è molto bello al di là di Google Moduli che è molto facile che tutti noi usiamo spesso lo strumento quiz di Google di Moodle è veramente potente si fanno dei quiz e possiamo modulare domande in modo diverso ci sono tante possibilità possiamo dare domande parzialmente corrette una soglia minima un feedback immediato ci sono tante variabili dare un tempo ad ogni risposta dare un tempo più grande a una persona con disturbi specifici di apprendimento dare tante varietà di soluzioni che mi piacerebbe nella prossima volta fare una dedicare la prima mezz'ora alla costruzione di un quiz che poi potrete aggiungere più tardi nel vostro corso ok è chiaro? si qualche domanda? si una l'unico problema Andrea è che praticamente tu continui a essere introvabile infatti ti volevo aggiungere ma come l'altra volta Guastino mi presenterò allora va bene aspettate un attimo che cambio le vesti ok? ok poi potete aggiungermi anche dopo allora vi dichiamo questa ultima parte a iniziare a lavorare su quello che avete fatto iniziate a trovare magari io intanto vi butto giù le specifiche del corso requisiti minimi quello che ci vorrei almeno un video almeno un documento di testo almeno provare a buttare giù un piccolo librino in base a quello che hai visto visto che sono qua magari se avete un'interazione con me non avete capito qualcosa di quello che ho spiegato è il momento magari di provare un po' questa spiegazione di un'ora è passata perché volevo farne di meno però magari avere se provate a farlo queste cose che vi ho spiegato in questo tempo magari potete possiamo condividere lo schermo e vedere insieme come aiutarvi per la costruzione di questo libro iniziamo a costruirlo ora questo libro questo corso diciamo ora intanto vado a impostarmi visibile per voi in modo che mi potete trovare nel corso allora vado su quindi non trovate il mio utente noi andiamo sul nostro corso sul vostro corso il vostro corso era ognuno di voi l'ha fatto nella palestra ambito mi sbaglio? sì dentro la palestra ambito io vedo nuovo corso scienze Giorgi Bruno corso scienze Bico va bene Bicocchi Bicocchi l'altra volta vi ho dato questi nomi possiamo lasciare anche queste corso di pittura per infanzia di Anda corso di geometria non so se c'è corso di... potete lasciare anche questi se voi oppure potete fare un corso di inglese specifico per una certa se la vostra UDA che avete pensato di consegnare come prima attività riguarda un argomento specifico potete modificare questo testo andando ad esempio nel corso che avete fatto e all'interno di impostazioni vi ricordo come si fa nella funzione impostazioni potete cambiare il titolo invece che corso scienze Bico mettete corso ad esempio sulla 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 crosta sulla terra sulla scienza non so che argomenti stai facendo di terra decidete voi su quale argomento praticamente il titolo del corso deve essere attinente secondo me con quello che voi andrete a sviluppare nell'UDA che poi mi consegnerete nella prima consegna quindi se decidete di consegnarmi magari l'avete già anche abbastanza pronta quella che avete già fatto durante l'anno su un altro momento potete non leghiamo il corso alla disciplina non è sempre così a volte si fa un corso legato a un'unità di apprendimento non a una singola disciplina ok? perché si creano dei micro contenitori modulari che possete utilizzare e creare come piccoli mattoncini per costruire altre unità di apprendimento più complesse ecco questo qua il concetto quindi non leghiamo il corso alla disciplina corso di informatica adesso noi l'abbiamo fatto per comodità ma leghiamola a un'unità di apprendimento che ha come risultato finale sempre un compito autentico un compito di realtà un prodotto finale di solito di unità di apprendimento quindi per valutare per competenze le regole sono sempre queste ormai dobbiamo farci l'abitudine a lavorare in questo modo quindi ora cerco di spostarmi il mio io sono qua a disposizione vostra quindi rimaniamo qui non spiego altro oggi perché non voglio fare altre ore quindi lavorate un po' su quel corso lì cercando di mettere in pratica sia a livello di wiki di libro se avete in mente di farci un glossario di quell'argomento se avete in mente e dopo di che provate a incominciare a caricarci dei materiali con quegli strumenti che abbiamo spiegato sia l'altra volta che oggi su quel corso lì su quel corso che decidete di utilizzare come consegna della seconda tranche di attività sincrona che è prevista nel progetto ecco va bene non mi credate torno subito allora andiamo a cercare questo corso dalle due dalle due manuela ciao scusa sono entrata ora avevamo lo scrutinio presso di rastri vabbè e stavate guardando dei compiti sì stiamo facendo guardando il corso vado a aprirmi la web vediamo un po' eccomi cerchiamo di risolvere il problema perché non mi vedete scusa Andrea per metterti come docente praticamente andavo modifica del corso e poi c'era ridenostazione ruolo no ma prima mi hai trovato e allora allora ti ho trovato non ci aggiungo io via ragazzi no perché io mi trovo quando vi cerco utente scusa Lombardo ormai non mi trovi ricontrollo Andrea aspetta prova un po' a condividere il tuo schermo così facciamo vedere come mi aggiungi ok perché io ho provato ora mi trovo cioè però non so se mi trovo solo io perché sono provo ad andare negli utenti iscritti del corso e fare aggiungi ho capito hai capito vai su utenti sì sì un attimino aspetta che stavo sì sì Andrea sono arrivata anche io Francesca Bertogli ciao Francesca buonasera buon pomeriggio ciao scusami questi pressi eh guarda siamo perduti allora Andrea a parte che non ci sei neanche te nel corso tuo no no parlavo con un altro collega scusa Francesca iscrivi utenti no non devi cercarlo lì devi andare su iscrivi utenti ok sì sì ok ecco dove sbagliavo sì allora per modificare il corso la stazione allora è questo qui no è quello con vai giù no vai un po' giù un po' giù allora è finito perché sono questi qua ce n'è una con l'iconcina mia c'ho l'icona non c'è scuola Wibi aspetta un attimo vado un attimo a fare una cosa nel mio piatto allora intanto possiamo mettere in pausa la registrazione lasciamo l'andare ormai per due ore per modificare il titolo come si faceva non me lo ricordo allora devi andare su nel tuo corso nella parte destra c'è il sito impostazioni impostazioni profilo no c'è l'amministrazione del corso impostazioni dove siete sul singolo c'è impostazioni profilo sì siamo sul corso di ognuno personale ok ognuno deve modificare il corso in base alle proprie discipline impostando il suo argomento che vorrà sviluppare anche attraverso l'unità di apprendimento che vi ho richiesto di consegnare nella prima consegna le prime 12 le prime tre ore aspetta che sto caricando sì sì se mi scelgo impostazioni profilo no perché c'è scusami ce ne due di impostazione cioè non impostazioni profilo più sotto c'è scritto sei sul tuo corso intanto quello che c'è di stituto sei o eri se non sei sul tuo corso se non sei sul tuo corso cosa vuoi vedere come modificare il titolo sì ora sono sul mio corso corso scienze ok perfetto quindi vai sul tuo corso e qui trovi le impostazioni qui l'amministrazione del corso impostazioni clicchi su impostazioni e ti viene fuori il titolo del corso Andrea scusa un chiarimento io sarò noiosa ma a me mi ci vengono tranquilla impostazioni profilo condividi un attimo il tuo schermo che forse è meglio per quanto riguarda le consegne da completare quello che viene definito corso da realizzare è un'unità didattica è da intendere come un'unità didattica esatto c'è un certo numero di argomenti certo 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 ok l'ho detto nel primo consegna c'era da consegnare la scheda di unità di apprendimento relativa alla vostra disciplina questa unità di apprendimento viene trasformata in un corso quindi è l'unità di apprendimento che prevederà diversi moduli se sono previsti oppure anche un modulo solo non è detto che siano diversi argomenti però strutturata un po' come abbiamo detto noi con la sezione dei materiali da supporto della didattica materiali collaborativi materiali di valutazione verifiche eccetera tutto quello che riguarda il percorso formativo che deve svolgere lo studente per raggiungere gli obiettivi previsti cioè voglio sapere se c'era se c'era un numero di argomenti no 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 minimo no no assolutamente prego allora intanto diamo qua qual è il tuo corso qual è il tuo corso allora forse ecco trovato fatto grazie mi scusi posso fare una domanda io sto cercando di inserire un video no come ha fatto lei ma proprio un video non un indirizzo quindi video etichetta editor ce la fa condividere quello facciamo insieme la guidiamo un attimo pulsanti html ah quello non faceva aspetta si fammelo vedere così lo facciamo insieme no prima volta dopo che ho fatto una volta dopo è automatica si aspetta che presento presento lo schermo ok vai allora allora ecco allora una volta fatto quello che devo fare dov'è il tuo video che hai preso prendimi il tuo video eccolo qua eccolo qua no questo no hai tagliato qua no ecco modifica modifica lo levo no no poi anche il video allora prendi l'etichetta aggiungi l'etichetta aspetti eh un attimo che mi sto aggiungo 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 etichetta etichetta ok oddio no devi fare nascondi va bene così in fondo vai perché se no vabbè aggiungo benissimo ora a questo punto non incollare lì vai clicca su visualizza strumento di modifica sopra vai tu su clicca sopra no vedi che c'è una con la parte nera visualizza strumento di modifica no no visualizza strumento di modifica chiudi su proprio dove stavi scrivendo prima dove stavi scrivendo nella casellina di testo nella casellina di testo sopra ah eccolo scusa sopra HTML 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 ora incolla lì dentro il testo grazie incolla aggiorna aggiorna eccolo lì ora fai salva e torna al corso in fondo vediamo eccolo ecco professore grazie prego interrompi tu la condivisione dimmi allora senta io una volta che ho cambiato il titolo no mettiamo che voglio anche io inserire un video certo allora cosa devi fare condividi il tuo schermo così lo facciamo insieme la prima volta ecco mi devo fare allora devi scendere il mouse verso il basso dove c'è il pulsantino per interrompere la registrazione la la chiamata avviso attività sulla destra c'è scritto presenta ora sì cliccalo il tuo schermo il mio schermo intero esatto poi ci si apre una finestrina come un'anteprima clicca in quella finestrina e poi fai i condividi prima però clicca sulla finestrina che se no non ti pare il pulsante condividi a questo punto dovrebbe partire il tuo schermo prima devi cliccare in mezzo al video che viene evidenzionato io parto ora condividi ora sta partendo a questo punto ripartiamo prima cosa cerca il video che vuoi mettere quindi vai su youtube e cercati un video se non hai un video cosa vuoi metterci certo prima bisogna che cerchi il video quindi apri una finestra del programma e cerchi il video sull'argomento che desideri utilizzare nel tuo corso sì sistema solare bene ok video magari mettici se no ti fa tutti no no ti fa tutti ok un video sul sistema solare allora prendiamo quello di youtube quello sotto dai un attimo giù prendi i paxi il sistema solare vabbè anche prendine uno qualsiasi che ti interessa vabbè il sistema eccolo prendine uno di quelli lì tanto per trovare scegline uno che ti pare clicca su uno di quelli lì qualsiasi sì non troppo lungo vabbè ma tanto è uguale tanto è uguale non cambia prendi quello non quello di dai il moti ma quello di sotto youtube prendilo da youtube si clicca 10 minuti di video in inglese così imparano anche l'inglese sta caricando a questo punto in basso c'è scritto condividi si clicca su condividi clicca su condividi a questo punto c'è quella no no devi andare su incorpora non devi copiare il link devi andare su incorpora in alto la primo pulsante non ti preoccupare incorpora clicca su incorpora ora copia quel codice lì fai copia basso a destra copia l'ha copiato ora torna sul corso in alto vai sul corso Wibi lassù dove lo vuoi mettere mettiamo che lo vuoi mettere nell'argomento 1 1 sarà l'introduzione mettiamola al 5 mettiamola al 5 ora a questo punto chiudi non vedo i pulsanti a destra per attivare la modifica del corso chiudimi un attimo con la finestrina ecco c'è attiva modifica vedi che il pulsante attiva modifica lo clicchi ora vedrai che in fondo all'argomento 5 potrai intanto dagli un titolo all'argomento clicca sulla ruota dentata sotto argomento 5 c'è una ruotina orientata sotto argomento 5 e gli dici che quello lì sono i video lì c'è la sezione dove ci metti tutti i video e qui nel nome sezione togli lo spuntino che c'è utilizza il nome di default vedi che lo togli se non te lo fa cambiare e ci scrivi video video lezioni video lezioni qui è l'argomento è la sezione dove trovano tutte le video lezioni ragazzi ok e salvi in fondo la pagina nascondi quella finestrina lì ecco fai c'è salva modifica siamo sì sì l'hai salvata ora torna in fondo aggiungi una attività e risorsa nell'argomento 5 torna su un po' su che vedo l'argomento 5 non lo vedo più torna un po' su con la finestra sto tornando ecco ora vedi che sotto video lezioni c'è aggiungi un'attività una risorsa sì clicca su quel link lì scegli la voce etichetta è più in basso più giù etichetta eccola 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 lì ok aggiungi ora in questa finestrina qua che ti è venuto dove c'è scritto testo di un'attività etichetta clicca su visualizza strumento di modifica ok e ti appare questi simboli clicca su html l'ultimo in basso a destra e ti incolli il codice che hai copiato quindi cosa fai cancelli tutto quello che c'è scritto qui cancella tutto quello che c'è scritto lì non c'è questa roba qua dentro vabbè cancella tutto fino in fondo tutto tutto ancora giù giù tutto cancella e ora fai incolla pulsante destro incolla oppure ctrl v incolla ora fai aggiorna in basso a questo punto il video è inserito se torni in fondo e salvi vai giù nella pagina e fai salva con salva pagina salva e torna al corso a questo punto il tuo corso ti si visualizzerà il tuo corso appare l'altro video eccolo lì vedi sì questo va già bene va già bene che il corso e che mi so su cosa fai il corso chiaramente se mi fai un corso sul piano solare vadrà bene sì se mi fai un corso sulla crosta terrestre chiaramente non so io che argomento è scelto a me una tenente a quello lì potrebbe essere già un contenuto digitale del corso che dovrei sviluppare va bene adesso mi scusi io dovrei uscire no perché ho il però le volevo dire l'ho inserita come al corso al mio corso come guastini e andrea più 455 è lei non lo sono io la prossima volta mi aggiungete la prossima che vi do l'indirizzo completo perché mi sa che devo cambiare qualcosa non è quello del mio indirizzo comunque la prossima volta avete firmato l'ora di presenza sì ma allora lo tolgo sì lo tolga che è meglio che sono io ma non lo gestisco io quella country c'è qualcuno che non ha ancora firmato no è Daniele Lombardo questo qui c'è scritto Daniele Lombardo io non l'ho ancora firmato ma sono in casa elettrica ve lo mando io il link ve lo rimetto in casa eccolo qua vi metto il link anzi l'avevo aggiunto con quella Andrea 4 bo qualcosa no no eccolo il mio adesso ve lo rimetto poi dopo se no vi complicò la vita vi faccio creare il codice di iscrizione eh oddio dio arrivederci allora scusi professore scusi sono Giannini volevo dire può controllare se ho firmato perché io ho firmato subito all'inizio però poi mi ripresentava il foglio firme non so perché quindi allora io ho delle firme allora vediamo un po' non crea io mi risulta che ha firmato Lombardo Mantesi Bianchi Zambonini Piccinone Gamba Disegna Giannini Piccocchi Dal Poggetto Diana Pauci Papazzerotti Lorenzetti e Bertoli Ora Ora ok grazie mille Bertoli sì Bertoli scusa Bertoli Ora Ora Francesco quindi ora dobbiamo inserire anche delle altre cose allora sì dipende allora adesso se mi date un attimo di tempo io mi metto nelle consegne le disposizioni di quello che dovete metterci ok un attimino di carico nel posto intanto iniziate a fare tanto vi voglio che ci mettiate un libro con almeno tre pagine un libro ho lavorato un po' almeno con un libro con tre pagine ora si è aggiunto anche Bicocchi Bicocchi sì ah no Ramacciotti si è aggiunto ah perché io è già tanto che ho firmato no no Ramacciotti che ha firmato ora non è che ha firmato da casa non è Ramacciotti e io no scherzo allora siamo in 15 giustamente più Bicocchi più Gamba che è uscito un'ora prima che devo togliere quindi siamo in 16 allora andiamo a metterci le disposizioni intanto vediamo perché non mi si trova dentro lì allora vediamo delle impostazioni il libro io proprio il libro non ce la fa? vado sul libro? sì quante cose avete inserito oggi? incorporato video e prima ancora? il libro l'etichetta file tutti i passanti non ho capito scusi quante cose avete inserito oggi? allora oggi abbiamo abbiamo messo dentro la risorsa libro un wiki dove si parte per il libro? d'in fondo dove c'è scritto libro aggiungi libro e poi si inserisce il primo l'introduzione il capitolo si creano due paginette abbiamo fatto il wiki il libro e basta per oggi e abbiamo fatto il video questi tre concetti qua poi li ho fatto esercitare a caricare questi ora stiamo esercitando a provare a caricare un video un libro e un wiki se ce la facciamo dopodiché la prossima volta faremo la prima parte come si utilizzano i quiz e dopo finiamo con la valutazione come si valutano le attività consegnate dagli studenti il registro d'aula tutte le cose il log la parte sulla valutazione dei corsi in google ma la prossima volta le ultime due ore che faremo il 19 nell'ultima lezione le dedicherò un'ora a come si costruiscono i questionarii di valutazione i quiz sia sommativi che formativi e li passo su quelle cose che abbiamo visto ora e poi faremo la parte relativa alla valutazione il registro di valutazione come si valutano le attività in mudola tutta questa parte qua in ora degli esempi di rubriche di valutazione sia per contenuti collaborativi che per contenuti tipo quelle che abbiamo fatto oggi il glossario come si valutano in forum eccetera eccetera però dei contenuti degli schemi per poter avere degli indicatori sulla valutazione sui corsi nudo grazie prego adesso cerco di farmi rendere visibile vabbè c'è tutte le registrazioni è semplice non è difficile nella descrizione che ci andava scritto non me lo ricordo quello che nella descrizione è il testo che è una descrizione del libro che stai facendo di cosa parla l'argomento sì 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 grazie prego allora può essere una posso una domanda prego io sono all'interno dell'iscrizione spontanea ma forse ho sbagliato ho dato il tuo nome eh può farlo anche lì aspetta un attimo perché se fate l'iscrizione spontanea ho dato il nome e il cognome sì ma aspetta fermo un attimo dove sei non ti vedo ci sono ci sono ci sono con la chiede non ho validato chiede volevo solo il ruolo assegnato mi ha detto un'altra ferma ferma una alla volta allora mi dovete aggiungere aspettate se fate l'iscrizione spontanea non potete non potete sono io che mi scrivo potete stabilire il ruolo che ottiene la persona puoi lasciarmi anche studente dopo mi cambi con docente veramente altrimenti non posso interagire però mi devi dare poi il codice che hai messo per iscrivermi la chiave di iscrizione brava io non ci ho messo nulla è vuota ci devo mettere per forza la chiave di iscrizione è vuota è vuota va bene provo a vedere quindi un corso aperto a tutti ho capito un corso libero visualizza la descrizione ci si deve non ho capito scusa Manuela visualizza descrizione si deve barrare no 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 lasciala con lì salva e torna al corso ok grazie allora così io torno un attimo a vedere i corsi che avete creato qual è il tuo corso che hai creato quello che non c'è a chiave di iscrizione non lo trovo corso di pittura e ho fatto delle che in fondo è quello che volevo iscrivermi già da prima vero no però non so se l'ho iscritta in questo momento che forse sono andata in un altro adesso lo dico subito dentro subito entro guarda se è il quinto entro vabbè io ho scritto vabbè mi faccia sapere se è riuscito a entrare un attimo che glielo dico subito se c'è se posso iscrivervi può entrare ho sbagliato anche dentro la visione se posso iscrivervi lo devo mettere in link corso di pittura vedo che c'è l'autunno visto degli occhi dei pittori sì e poi in fondo c'è una specie di l'argomento 5 lo vede? lo vede certo che sono ora ci sono ok va bene quindi va bene così l'ho messa l'ho messa esatto ok va bene grazie allora vado avanti vado avanti ok va bene sì ok Andrea ti saluto e saluto tutti ciao ne trovo un altro per i corsi ok va bene ciao Mario grazie buona giornata ciao grazie ciao e anch'io un altro corso ora vi saluto e grazie ok oggi siamo uno dopo l'altro siamo? eh sì e poi pure lo scrutino quindi oggi siamo al completo oggi siamo al completo meno male che hai avuto tempo adesso sta venendo bello almeno non ci facciamo restare a marcio arrivederci arrivederci allora dunque io ho ho messo del materiale nel corso però a lei non sono riuscita ancora ad aggiungere qual è il tuo corso? dunque il mio corso è Barbara My English Barbara My English allora corso Barbara My English Giannini ok sì ok allora vado a vedere gli utenti i testi iscritti gli iscritti utenti allora ruolo docente guardi un po' se mi vede ora come docente vediamo il video l'ho messo male ah ecco ecco meno male sì adesso la vedo come docente sì allora vede che guardi il corso vedi che nel video London Sherlock Holmes il codice viene scritto non viene vede che c'è il codice scritto sotto il frame questo codice non va messo in questo modo qua deve andare sul pulsante attiva modifica sulla destra ok lo deve copiare questo codice praticamente lo copia sì poi andando su attiva modifica ora però mi fa termina modifica no va bene attiva modifica li clicchi sull'etichetta che ha messo lì dove ci ha messo quel codice lì la modifica la ruota di che è dentata mi condividi questo schermo così lo facciamo insieme sì tanto c'è Ganguela ma quando condividerei la fuori tanto una volta mi succede anche a me purtroppo allora un po' tanto io sono alle prese col libro eh bene piano piano dopo magari c'è sempre lo schermo condiviso sì eh sì ma tu non riesco a condividerlo una domanda al volo nell'Uda quando dici specificare se l'Uda se è Uda di AS-L AS-L si intendono le competenze le vecchie alternanze scuola lavoro no in questo caso ok il nuovo ora si chiama Ptco prima si chiama AS-L ah ok grazie Barbara Gianini sta presentando ok è il tuo Barbara questo? no mi sembra che è sempre quello di questo qua su in alto il tuo sì sì right allora vado sul tuo un attimo che poi come ce ne due che stanno presentando insieme Barbara un po' piccino ok allora ok che è questo you want new mail attiva modifica no è sempre quello di Manuela Bicocchi questo qua scusami è sempre il tuo no you want ora lo vedo ok ora lo vedo attiva modifica adesso vedi che sotto quella voce London vai qua giù con il mouse vedi che sotto quella scritta i frame c'è una ruota dentata sotto 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 a sinistra dove c'è la crocettina no sotto più giù in quella riga di simbolini sotto il testo quella destra quella destra ancora quella destra ruota dentata ancora quella destra quella lì clicco lì lo modifichi clicca quella lì no quella proprio ruota dentata quella prima della X no a sinistra a sinistra ancora lì sinistra dalla parte di là dalla parte opposta ancora ancora di qua no dalla parte di là indietro è ritornata Manuela Bicocchi che è successo c'è una ri dove è andata Francesco dove è andata è sparita condivisione dello schermo è sparita è sparita lei e lo schermo tutto dove è andata mi saluto anche io sembra la connessione arrivederci ciao però ci riprovo ciao ecco ricondividi ricondividami vai ciao ciao ritorna sul tuo schermo che è questo qua in alto vai su Moodle ok ci sei? sì ecco ecco hai fatto attiva modifica vai nel pulsante no hai fatto quello ho sbagliato è un'altra etichetta vai in fondo fai salva esci da questo vai in fondo alla pagina e salva modifiche devi prendere non quell'etichetta quella rotellina che ci sta sotto il nome dell'argomento ma quella che sta sotto il testo vedete c'è scritto i frame eccetera eccetera no? ecco quella lì brava clicca quella lì qui ecco ingrandisci questo devi cancellarlo quel testo di tutto da lì ingrandisci la cellula cancelli tutto o lo copi lo cancelli proprio voi vai clicca su visualizza strumento di modifica quella parte sopra vai su HTML l'ultimo pulsante a destra così l'ultimo pulsantino che c'è no giù giù c'è una fila di pulsanti c'è uno che si chiama HTML ecco incollalo qua il testo control v quello che avevi copiato l'incollato aspetta lo riprendi copia e incolli e fai e aggiorna basteria è quasi scarica e aggiorna ora fai salva e torna al corso anche se lo lasci così va bene tanto lo visualizza correttamente nel corso questo è il video che hai inglobato hai capito? quindi l'errore che facevi è che quando vai a modificare ritorna sulla ruota dentata quando vai a modificare clicca sulla ruota dentata ad esempio ecco hai ripreso sì 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 non devi andare invece che incollarla proprio sulla cadina di testo devi fare HTML e poi metterlo in quella finestrina di HTML che ti si presenta effettivamente perché non mi dice che non mi fa sto metto di mia vita chi è che non riesce? va bene questa parte intanto stoppo interrompito interrompito